Seracusa ha denunciato un minore e quindicenne per resistenza pubblico ufficiale e due uomini per rinosservanza agli obblighi. La pomeriggio di ieri agente delle volanti nel corso del servizio di controllo del territorio intimavano l'alt polizia a uno scooter di colore bianco con due giovani in bordo che proseguiva la sua marcia tentando di fuggire. La pattuglia della polizia si poneva all'inseguimento dello scooter per le vie cittadine e desisteva solamente perché le manovre spericolate del conducente potevano arrecare grave pregiudizio per i piedoni e per lo stesso motociclista attesa la circostanza che era stata rilevata la targa del ciclomotore nonostante che il passeggero cercasse di occultarla. I poliziotti pertanto risaliti al proprietario del mezzo individuavano nel figlio di quest'ultimo minore di 15 anni uno dei due occupanti del ciclomotore e lo denunciavano per reato di resistenza pubblico ufficiale sanzionandolo altresì per non essersi fermato all'alt polizia. Inoltre agente delle volanti nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposte a misure limitative della libertà personale hanno denunciato due uomini per rinosservanza alle misure di cui sono destinatari.